Siamo almeno sicuri che non ci saranno interessi personali dei consiglieri, nel senso che c'è un interesse superiore di stabilità del sistema e quindi anche di stabilità della banca. Non è una sera come tutte le altre, quella dell'11 febbraio 2015 per i dipendenti di Banca Etruria. Diventa tristemente una data storica per tutto il territorio aretino. Dopo 165 anni di operatività, Banca Etruria, la banca dell'oro, degli aretini del territorio e la banca popolare davvero viene commissariata. Il decreto è del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il numero 45 del 10 febbraio 2015, disposto su proposta della Banca d'Italia, che in seguito alle ispezioni in atto ormai da mesi ha rilevato gravi perdite del patrimonio dovute alle consistenti rettifiche sul portafoglio crediti. Un tonfo per l'economia aretina e adesso il vero rischio è la fuga dei conto correntisti e dei risparmiatori. I commissari in questa delicata fase sono in realtà i principali garanti. La clientela, si legge nel comunicato, potrà continuare a rivolgersi come di consueto agli sportelli della banca. Ed è proprio la rassicurazione il messaggio principale che lanciano i sindacati all'indomanda in una notte che ha comunque permesso di mantenere valido l'accordo firmato appena una settimana fa. Al tempo stesso però adesso non si lascia più scampo a coloro che vengono ritenuti i maggiori responsabili di questo disastro. Ai componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione, il vecchio management da Fornasari Giuseppe, al CDA da Rosi Lorenzo, in Ghirami Giovanni, Fazzini Enrico, Nataloni Luciano e via discorrendo, dal direttore generale Bronchi Luca, c'è anche Pierluigi Boschi. Si parla a testa, se prendiamo il vecchio presidente Fornasari, 180 mila euro di ammenda. Per delle violazioni che riteniamo gravi. Da adesso in poi si prospetta uno scenario che i commissari dovranno visionare assolutamente i conti della banca, vedere se da questo punto di vista ci sono margini di manovra. Certo molto conta il comportamento, secondo il mio modesto avviso, dei piccoli risparmiatori. Una fuga sarebbe terribile perché vorrebbe dire svuotare di liquidità la banca. Il governo deve fare la sua parte, non dire bischerate come ho sentito dire dalla ministra Boschi. Insomma, bontà sua, a noi non interessano queste questioni, quelle querelle di par condicio rispetto ai comportamenti della Banca d'Italia. Non ce ne frega niente. Ci dispiace che la ministra sia solo preoccupata per questo aspetto mediatico. A noi interessa la sciccia, la sostanza, che sono posti di lavoro e economia per il territorio. Visto che legate ci sono anche tante piccole imprese della nostra città. Il commissariamento è probabilmente un processo di accelerazione nella vendita, per l'acquisizione della banca da parte, per facilitare l'acquisizione della banca da parte di nuovi soggetti. Questo è il punto fondamentale. La Banca d'Italia vigilava già sull'operato della Banca dell'Etrulia. Non è che negli ultimi tempi il Consiglio di Amministrazione ha fatto azioni in contrasto con la Banca d'Italia. Anzi, le operazioni fatte sono per rendere la banca più efficiente e più appetibile anche per nuove acquisizioni. Non è difficile pensare che la magistratura retina presto debba lavorare alacremente su tutto questo, perché alcuni soci stanno preparando un esposto alla Procura della Repubblica. Forse si è dato anche troppo tempo a fare dentro questo periodo, chiamiamolo di transizione, a qualcuno di fare anche qualche giochetto dal punto di vista del rastrellamento dei pacchetti azionari e quant'altro. Gli risparmiatori devono stare tranquilli, nel senso che il commissariamento della banca non preclude, ha una catastrofe. Preclude certamente all'accertamento di responsabilità che ci sono da parte del menagement vecchio e nuovo, perché il menagement ha portato la banca in queste condizioni. So già che ci sono alcuni risparmiatori, anche soci, che stanno predisponendo esposti alle Procure della Repubblica di Arezzo, di Roma e di Milano. Se sarà necessario noi ci insinueremo i procedimenti che ci sono in atto verso le Procure della Repubblica, oppure li faremo di nuovi noi, perché indubbiamente non dobbiamo tutelare i risparmiatori. Il titolo di Banca Etruria adesso in borsa è sospeso e così migliaia di azionisti sono alla finestra, cercando di capire che cosa accadrà.